Una vittoria risicata nel punteggio ma non sul piano del gioco. Nella settima giornata del campionato di eccellenza, il Lumezzane sbanca di misura per 2-1 il campo del Cazzago Bornato, mantenendosi così in vetta alla classifica. I rosso-blu di Arnaldo Franzini finiscono inizialmente sotto per il gol siglato da Lorenzi, ma già nel corso della prima frazione ribaltano il risultato grazie al rigore trasformato dall'Eirone, Andrea Caracciolo e alla rete di Tognoni propiziata proprio dall'ex Brescia. Nella ripresa è invece monologo Valgobbino, ma il risultato non cambia. Altri tre punti fondamentali per il cammino del Lumezzane. Diciamo che è un po' sempre il solito ritornello, qualcuno penserà che non ho altro da dire, ma l'analisi della partita è questa. Dopo primi 20 minuti non fatti bene, dove il Cazzago ha meritato non mancare in vantaggio, poi come hai detto tu non c'è più stata partita, soprattutto nel secondo tempo. E purtroppo riteniamo in vita delle partite che andrebbero chiuse molto prima. È un nostro difetto, quindi ci stiamo provando a lavorare anche in settimana, ma evidentemente sbagliamo, sbagliamo troppi gol e questo ci costringe a tenere le squadre in partita fino al novantesimo e passa, quando poi un episodio, un rimpallo o una palla buttata dentro ti può anche costare caro. Però veramente oggi non è facile venire a vincere comunque sui campi come stiamo facendo, contro avversari comunque validi e oggi Cazzago l'ha dimostrato. La squadra poi quando ha preso in mano la partita l'ha fatta e ripeto giocando palla a terra, giocando veramente bene e dobbiamo continuare così, magari migliorare in alcune situazioni che magari ci possono costare caro, soprattutto in fase conclusiva, ma anche sul gol subito. Infatti non si regala niente a nessuno, ma lo sapevamo e ogni partita è sofferta fino al novantesimo. Oggi sono contento in particolar modo perché è la prima volta da inizio stagione che tra amichevoli coppie e campionati, quando andiamo sotto ed è successo poco, per fortuna abbiamo ribaltato la partita, non era mai successo, quindi questa è un'altra cosa importante perché può capitare in questo campionato, soprattutto all'inizio dove le squadre partono contro di noi molto forti e molto aggressivi cercando di bloccarci e di trovare magari il gol come hanno fatto. Quindi oggi questo aspetto è un altro aspetto importante che abbiamo messo in più in questa marcia. Era la cosa più importante a portare a casa di tre punti, come sappiamo, e poi a parte la prestazione personale c'è la prestazione collettiva, che magari abbiamo subito un po' all'inizio, comunque non troviamo le quadrature bene nella partita, poi comunque siamo saliti noi in cattedra e abbiamo sprecato anche tante occasioni, soprattutto nel secondo tempo, però l'importante è appunto portarla a casa e abbiamo fatto il nostro dovere.